Nuovo ricorso dei genitori contro l'ordinanza regionale che rinvia febbraio ritorno in classe delle superiori, rimpallo di responsabilità sulla chiusura tra Fedriga e il comitato tecnico scientifico. Conte chiede la fiducia alla Camera appellandosi ai volenterosi, parla di crisi senza plausibile fondamento e chiude a Renzi il giorno della verità domani in Senato. La polizia di Pordenone ha smantellato una centrale dello spaccio di droga in città, restato un 43enne che aveva a disposizione, oltre ai 10 chili tra hashish e cocaina. Le temperature rigide, la grande quantità di neve caduta causeranno la morte di numerosi cerve e caprioli rimasti senza cibo, aumenterà il numero di carnivori come orsi e lupi. E' tornato ad allenarsi con il gruppo Nighting, il difensore potrebbe tornare per la partita di sabato contro l'Inter, seconda di due gare decisive per Gotti, se ne parla Bianconero dalle 21. Buonasera da Telefriuli, ben ritrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. la scuola in primo piano sono tornati sui banchi in presenza a oltre 640 mila studenti delle superiori in tutta Italia. Si tratta degli studenti di Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia Romagna, mentre quelli del Friuli Venezia Giulia attenderanno il primo febbraio come i colleghi di Sardegna, Veneto, Calabria, Basilicata e forse Marche. Sono invece già tornati in classe al 50% gli studenti delle superiori di Toscana, Valle d'Aosta, Abruzzo e Trentino. In Friuli Venezia Giulia, lo ricordiamo, è in vigore la seconda ordinanza Pedriga, che ha confermato la data del primo febbraio come quella per il ritorno in classe. Intanto ieri il CTS, riunito d'urgenza dopo la richiesta del governo di una indicazione sul ritorno in aula dei ragazzi, ha sancito che le superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal DPCM del 14 gennaio. Per gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, se ne assume la responsabilità. Le valutazioni del CTS sono una guida chiara, ha detto la ministra dell'istituzione Lucia Azzolina, che ha definito rientro in classe un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani. A tal riguardo il presidente della regione Pedriga ha rispedito al mittente la richiesta di assunzione di responsabilità. È il comitato tecnico scientifico a dover scrivere nero su bianco che con il trasporto al 50% non c'è alcun pericolo di contagio nel far rientrare gli studenti delle superiori, ha spiegato Pedriga. Se il CTS lo farà, io aprirò tutto a chiarito. E proprio per discutere questo punto, Pedriga ha convocato una conferenza delle regioni per questa sera, durante la quale sarà richiesto questa assunzione di responsabilità da parte del CTS. Altrimenti è un po' troppo facile, ha detto, io mi sono preso le mie responsabilità e le ordinanze le ho firmate. La posizione del CTS, secondo Pedriga, è assolutamente lontana dagli indirizzi politici del ministro Azzolina. Mi sembra ci sia molta contraddizione tra governo e CTS, ha concluso, ma in questo momento il Paese è istituzionalmente nel caos. Intanto la didattica a distanza sta assegnando profondamente la salute psicofisica dei ragazzi. Avere cuore e il loro benessere non significa solo proteggerli dal Covid. E' questa la motivazione con la quale il gruppo di genitori ha impugnato la prima ordinanza a Pedriga. Ha deciso di ripresentare ricorso anche contro il nuovo provvedimento. Chiedono una graduale ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza. E' arrivato il momento di pensare a riaprire le scuole in sicurezza. Con il virus dovremo convivere a lungo. Non è pensabile prorogare di mese in mese il ritorno in classe. I genitori che hanno promosso il primo ricorso contro l'ordinanza a Pedriga del 4 gennaio sono tornati alla carica anche contro il nuovo provvedimento del governatore che conferma la riapertura delle aule delle scuole superiori dopo il 31 gennaio. L'avvocato Filippo Pesce di Udine sta predisponendo il testo del nuovo ricorso al TAR che sarà depositato nelle prossime ore. Corre il nostro obbligo di tentare fino in fondo ogni soluzione affinché riprenda quantomeno con piccoli passi, con prudenza nel rispetto delle norme e delle regole una didattica che sia quella corretta. Purtroppo la DAD in un contesto epidemiologico come questo certamente è stata una soluzione. Anche nell'ultima ordinanza un po' forse, e questa è una piccola critica che voglio muovere, non si è ancora dato adeguato spazio a mio avviso alla salute dei ragazzi. La salute non solo intesa, proteggiamo dalla Covid, ma questo spero che anche noi genitori, anche io sono padre, lo stiamo facendo ogni giorno. Ma questa didattica a distanza sta segnando profondamente la salute psicofisica dei ragazzi. Questo aspetto a mio avviso deve essere oggetto di valutazione. So che è stato fatto anche a livello regionale per carità, però probabilmente qualche passetto in più ce lo stiamo aspettando. Quindi i genitori dicono, cerchiamo di capire qual è il modo per ripartire in sicurezza, non posticipiamo semplicemente la decisione. Esatto, il problema deve essere affrontato, non siamo disponibili, ma lo sa, ci mancherebbe, poi ribadisco, non è che siamo uno sparuto gruppo di genitori che si rivolgono all'avvocato, che è la punta dell'iceberg. I ricorrenti rappresentano un grosso e nutrito gruppo di genitori che anche dal punto di vista morale ci hanno dato grossa adesione. La didattica al 50% in presenza è un primo passo. Se le condizioni del Friuli Venezia Giulia non garantiscono il 75% magari un 50% potrebbe essere un primo passo importante che sia affrontato questo problema con forza. Il liceo classico Stellini di Udine è pronto per il riavvio delle lezioni in presenza. Intanto poco più di una trentina di studenti segue quotidianamente le lezioni in aula, alcuni sono allievi che necessitano di avere un contatto diretto con gli insegnanti e con gli stessi compagni di classe che si alternano appunto in numero ridotto. Da 7 gennaio al liceo classico Stellini di Udine sono ricominciate le lezioni in presenza per gli studenti previsti dal DPCM. Questo istituto era stato fra i primi in Italia a proporre un modello di insegnamento durante l'emergenza Covid. Dirigenza e docenti sono in attesa di certezze perché sono pronti a riavviare da subito le lezioni in presenza. Noi ci atteniamo a quanto previsto anche dall'ultimo DPCM, cioè diamo la possibilità ai ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali di rientrare in classe in presenza. Ovviamente per realizzare un'effettiva integrazione di questi ragazzi diamo la possibilità anche ad alcuni altri ragazzi per classe di partecipare alle nostre attività didattiche in presenza. Attualmente in tutto l'istituto stanno frequentando in presenza 35 studenti. Lo stato d'animo dei ragazzi, lo stato d'animo degli insegnanti e degli stessi dirigenti che devono destreggiarsi con i vari DPCM. Per quanto riguarda ragazzi e famiglie non c'è un comportamento omogeneo. Per quanto riguarda i docenti c'è molta cautela. Ovviamente tutti siamo consapevoli del fatto che la didattica in presenza è quella realmente efficace. Certamente sarebbe preferibile operare avendo qualche certezza. Davvero si naviga a vista. Sarebbe auspicabile compatibilmente insomma con quella che è la situazione che stiamo vivendo poter avere delle risposte anche dal decisore politico con un congruo anticipo per poter pianificare e organizzare il rientro in maniera davvero efficace ed efficiente. I dati del Covid oggi in Friuli Venezia Giulia con 21 persone decedute con Covid e poi su 1.596 tamponi molecolari eseguiti sono 120 casi che sono stati individuati con una percentuale di positività del 7,52%. Per quanto riguarda i test rapidi antigenici su 397,33 i casi 8,31% di positività. Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva. 680 sono ricoverati in altri reparti. Diminuiscono le persone in isolamento che sono 11.942. Si tratta di una crisi inspiegabile senza alcun fondamento. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha espresso oggi in Camera dei Deputati le sue valutazioni sulla crisi politica in atto e ha chiuso a Italia Viva domani il giorno decisivo in Senato. Sentiamo le sue parole. È una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro Paese. Quando ancora la pandemia è in pieno corso, tante famiglie che ci stanno guardando in questo momento stanno soffrendo per la perdita dei propri cari. Confesso, lo devo dire, di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno per i cittadini, per le imprese, non per illustrare la bozza ultima migliorata del recovery fund, del recovery plan, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini. Ma devo confessarlo, io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No. Questa crisi rischia di produrre danni notevoli e non solo, perché ha già fatto salire lo spread. Servono un governo, infatti, e forze parlamentari volenterose, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando della delicatezza dei compiti. Servono donne e uomini capaci di rifuggire gli egoismi, di scacciare via la tentazione di guardare all'utile personale. Questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista. Forze politiche, quindi, che sono chiamate a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste. A tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia, chiedo oggi, aiutateci. Aiutateci a ripartire con la massima celerità. Aiutateci a rimarginare al più presto la ferita che la crisinatta ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini. Sulla crisi di governo, sentiamo quali sono le sensazioni e le preoccupazioni del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. La crisi di governo preoccupa il comune di Udine. In modo particolare, il sindaco Fontanini punta il dito sul fatto dei vaccini. La nostra regione avrà una decurtazione del quasi 50% di vaccini e mi preoccupa moltissimo perché le persone che sono già vaccinate devono avere adesso un richiamo che deve essere fatto entro 15 giorni e poi ci sono tante persone che aspettano questo vaccino. E non si riesce a capire, il commissario nominato dal governo, che non è in grado di gestire una situazione che rischia di creare dei danni molto gravi sul territorio, in particolare nella nostra regione. Penso che domani, martedì, al Senato troveranno una maggioranza, quindi si continuerà. Non so se con lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, senz'altro con la maggioranza che sorregge perché non vogliono andare a casa, non si cercheranno le elezioni anticipate. L'importante è che però si torni a governare, si torni a prendere decisioni e soprattutto capire come verranno gestiti questi più di 200 miliardi. Lei ha avuto esperienza a livello nazionale. Che soluzione suggerirebbe se lei in questo momento si trovasse a Roma? I cittadini che sono i responsabili della politica di un paese chiedono una nuova maggioranza, quindi si potrebbe andare a elezioni. Sono andati negli Stati Uniti d'America a votare il nuovo Presidente. Andranno in Portogallo, andranno in Olanda, in Inghilterra. Hanno fatto elezioni a Rafica. Non capisco perché l'Italia non possa tornare a chiedere ai cittadini un nuovo mandato elettorale, quindi con una nuova maggioranza per il governo. Dopo l'intervento di oggi di Conte alla Camera, domani appunto sarà la volta del Senato, caccia ai numeri per avere una maggioranza. Intanto le opposizioni tuonano il discorso imbarazzante. Subito al voto. Per il governo Conte bis, domani sarà il giorno della verità al Senato. Calcolatrici alla mano, per la maggioranza assoluta servono 161 voti, numero che appare lontano dal poter essere raggiunto. Per la maggioranza relativa, che basterebbe a tenere in vita il governo, bisognerà contare le presenze in aula. Mentre caccia ai costruttori o responsabili, che andrebbero ad aggiungersi ai voti favorevoli di 5 Stelle, PD, Leo e Maie, con Italia Viva che dovrebbe astenersi, le opposizioni sono sulle barricate. Vedremo domani, chiarisce il senatore friulano di Forza Italia, Franco Dalmas. Conte potrà anche avere una maggioranza numerica, ma non di certo quella politica. Dalmas esclude che ci possa essere un appoggio da parte di esponenti forzisti in Senato, anche in riferimento alla senatrice triestina Laura Stabile, che pareva avesse fatto un mezzo passo avanti in tal senso. Da parte nostra non c'è alcuna volontà di sostenere questo governo, conclude Dalmas. Conte oggi in aula ha rimarcato la natura europeista del governo contro ogni sovranismo. Per Lega Fratelli d'Italia la via è una sola andare a votare. Il discorso di Conte è stato purtroppo prevedibile, molto debole, per alcuni momenti anche imbarazzante. Ha tentato di uscire da questa crisi gravissima appellandosi ai centristi o comunque tentando di acquisire il loro voto con promesse di rimpasto di leggi proporzionali. Esattamente quello che non serve al Paese in questo momento. L'unica strada di uscita da questa crisi è il ritorno alle urne. Ci confronteremo di fronte agli italiani e saranno gli italiani a decidere a chi spette a governare in questo momento così difficile per il Paese. La polizia di Pordenone ha smantellato una centrale dello spaccio di droga in città. Vediamo. La sua casa era una vera e propria centrale per lo spaccio. Per questo è stato arrestato a Pordenone un 43enne marocchino regolarmente residente in Italia. Era in possesso di 10 kg di hashish e 100 g di cocaina del valore di 250 mila euro. È successo venerdì 15 gennaio quando una pattuglia della squadra mobile pordenonese ha notato in zona fiera una Opel Astra. Fermato il veicolo alla sua guida c'era il cittadino del Marocco, residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Dopo che l'uomo non ha saputo dare spiegazioni per la sua presenza in strada, gli agenti hanno perquisito la sua persona e l'autovettura e così sotto il cofano, nascosti tra le parti meccaniche del motore, sono stati trovati 5 involucri di cellofan contenenti ciascuno 10 pacchetti di una sostanza marrone per un peso complessivo di 5 kg, risultata hashish al narcotest preliminare. Data la flagranza di reato, la polizia ha perquisito anche l'abitazione del 43enne dove sono stati trovati 100 ovuli di hashish per un peso di 1 kg e un letto di cocaina e il campo aliacente nel quale sono stati rinvenuti all'interno di un tubo di cemento altri 3 kg di hashish. Non si abbassa mai la guardia soprattutto per tutelare dal punto di vista del danno fisico che fa l'assunzione di stupefacenti, soprattutto quelle fasce più vulnerabili, parliamo dei giovanissimi, dei ragazzini, dei minorenni, anche perché ormai i risconti ci dicono che l'età media in cui un ragazzino si avvicina e si approccia al mondo delle droghe si è attestata tra i 12 e i 13 anni. È chiaro che questa è un'attività sviluppata di iniziativa svoltasi nella cornice di prevenzione, di controllo del territorio, adesso c'è tutta la parte giudiziaria che ovviamente sarà approfondita. L'uomo in possesso di regolare permesso di soggiorno è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e portato nel carcere di Pordenone. Beantec ha ricevuto da Confindustria Nazionale il riconoscimento BITS come realtà distintasi nell'aiuto fornito agli ITS nella formazione di professionalità legate al mondo dell'informatica. Coincide con i primi 20 anni di attività il riconoscimento BITS che Beantec ha ricevuto da Confindustria Nazionale per essersi distinta nella formazione di professionalità legate al mondo dell'informatica attraverso gli ITS. In più, oltre agli stretti rapporti con gli istituti scolastici d'eccellenza, Beantec può vantare anche una propria academy per plasmare al meglio i giovani lavoratori in base alle necessità proprie e delle aziende clienti. Noi come fondatori e anche docenti aiuto ai due ITS con cui lavoriamo, quindi il Kennedy di Pordenone e il Malignani di Udine, siamo stati riconosciuti e quindi ci fa molto piacere perché vuol dire che quello che stiamo facendo non solo per noi ma anche per il territorio è un'azione valida dal punto di vista economico e anche per la tecnologia del territorio. Abbiamo la necessità oggi, fa bisogno di avere risorse qualificate come quelli che si occupano di Cloud, IoT, Data Analytics, Artificial Intelligence, quindi sono figure professionali di alto livello che a noi servono per poter fare poi il nostro business. Quindi noi queste persone poi le prendiamo dagli istituti tecnici superiori e dall'Università del territorio e poi formiamo l'ultimo pezzo attraverso la nostra academy che è quello che poi serve per gli utilizzi che noi dobbiamo fare nel mercato del lavoro e di quello che noi facciamo per i nostri clienti. Però è importante diciamo che per poterli formare poi internamente qui in azienda devono avere delle competenze di partenza che comunque non sono, che non si trovano ovunque. Per noi c'è grande difficoltà di risorse da trovare e quindi grazie alla collaborazione con gli ITS e con l'Università riusciamo poi a portare in azienda queste figure che poi noi possiamo assumere e far lavorare qui all'azienda. Timore di dismissione delle produzioni nello stabilimento della DM Electron di Buia dove sono rimasti al lavoro 48 dipendenti. I sindacati lanciano l'allarme denunciando il pancato pagamento degli stipendi da giugno dello scorso anno. La produzione continua senza problemi in Romania dove nello stabilimento di DM Electron lavorano un centinaio di persone con contratto di tipo interinale. In Italia invece nello stabilimento del Friuli Collinare di Buia sono ormai solo 48 dipendenti per la produzione di schede elettroniche e non vengono pagati dallo scorso mese di giugno. La denuncia è della segreteria della FIOM CGL Udine e FIM CISL Friuli Venezia Giulia rappresentate rispettivamente da Davide Bassi e da Pasquale Stasio. Nella giornata di domani avrebbe dovuto tenersi un incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale proprio per fare il punto sulle date dei pagamenti dei salari da effettuare i lavoratori. Un vertice che però è stato annullato creando ulteriore preoccupazione tra le maestranze. Oltre a non pagare le retribuzioni spiegano i sindacalisti mancano i pagamenti dai recuperi fiscali legati alle dichiarazioni dei redditi e non vengono consegnati cedolini paga bloccando di fatto la possibilità di recuperare gli stipendi retrati non essendoci modo di certificare il credito. E c'è sempre più il timore insomma che le produzioni all'interno dello stabilimento di Buia si stiano avviando verso un percorso di dismissione. A causa dell'emergenza covid il teatro nuovo Giovanni Daudine ha dovuto rinunciare a spettacoli importanti che difficilmente potranno essere riprogrammati. Intanto comunque si lavora per riprogrammare e aggiornare i nuovi calendari pur senza una data certa di riapertura. Saltano spettacoli programmati al teatro nuovo Giovanni Daudine e le prospettive di riproporli si fanno sempre più remote. Il teatro anche così vuoto ha una sua vita perché di là di queste mura c'è tutto un fervore di attività di programmazione che purtroppo viene fatta solo sulla carta perché non abbiamo certezze. Una volta che si deciderà di far riaprire l'attività dei teatri servono diverse settimane di preparazione prima di poter in concreto riaprire il sipario. Qualcuno magari nel suo piccolo è riuscito ad organizzarsi con spettacoli in streaming? Non è teatro evidentemente. Lo streaming va bene perché si presentano altre cose, si tiene viva una fiammella, un interesse che può preludere poi a una ripresa alla grande ma lo spettacolo dal vivo è unico. Una rappresentazione teatrale anche se viene fatta per 50 sere in un anno ogni sera è un unicum perché non sarà mai uguale a quella della sera dopo delle sere successive. Poi quello che è grave secondo me ad esempio che ci hanno tolto con questo blocco il diritto di ridere. Ridere non vuol dire solo commicità scardinata, vuol dire riflettere, vuol dire usare l'intelletto. La risata è contagiosa, è più difficile ridere da soli che piangere da soli. Si ride se si sta insieme e si torna poi forse al vecchio motto latino che ridendo castigat mores può influire anche una risata sulla, se non sulla formazione, sulla correzione di coscienze anche individuali che poi si ripercuotono anche sul valore, sui contenuti della società. La Fondazione Teatro Lirico di Trieste ha reso nota la scomparsa di Ine Maesters che fu maestro del coro del teatro dal 1987 fino al 2001. Nata nella città olandese di Bokholz nel dicembre del 43 aveva studiato a Maastricht, Parigi e Monaco di Baviera ed aveva diretto importanti con pagine teatrali in tutta Europa, fra cui quelle del Teatro Musical di Parigi, della RAI, Radio Televisione Italiana e dell'Opera di Roma. Ha preparato il coro del Verdi di Trieste dall'87 al 96 e dopo una pausa aveva ripreso appunto lì il suo lavoro fino alla stagione del bicentenario 2000-2001. Artista rigorosa, raffinata preparatrice e specialista del repertorio lideristico, ha lasciato al Teatro Verdi un indimenticabile ricordo delle sue qualità artistiche e della sua dedizione totale alla musica, così ha scritto la Fondazione, ricordandola. Non è una fake la notizia di un avvistamento di un orso nei giorni scorsi tra Peteano e Sagrado nell'Isontino. Infatti ci sono state le chiamate all'1-1-2 prima da parte di una donna e poi da un fattorino che si è visto attraversare la strada dall'orso vicino al monumento che ricorda la strage in direzione Sagrado. Il mammifero è stato poi rintracciato dai carabinieri di Gradisca che appunto secondo le parole hanno raccolto le parole dell'addetto alla consegna delle pizze, che ha detto come l'orso stesse per travolgerlo rischiando di farlo cadere dallo scooter. E parlando di animali, le temperature rigide di questo inverno e la grande quantità di neve caduta causeranno una moria di cervi e caprioli. Mai così tanta neve e temperature tanto rigide da dieci anni a questa parte nell'area montana del Friuli Venezia Giulia. Condizioni meteo che avranno ripercussioni anche sulla fauna. L'unico orso al momento monitorato dalle tracce sul manto bianco, l'orso Francesco, pare si è entrato in letargo tra socchieve, preone e verzegni, sprotetto probabilmente dai pini mughi. Soffrono e moriranno invece molti esemplari di cervi e caprioli, in misura minore anche stambecchi, camosci e cinghiali. Tutte specie che a causa della grande quantità di neve sono più esposte ai predatori e non riescono a trovare cibo. Come spiega Stefano Filacorda, ricercatore dell'Università di Udina, si tratta di un normale ciclo della natura. Gli animali che moriranno andranno ad alimentare i carnivori o comunque i predatori. Non solo l'orso, affamato a risveglio dal letargo che gli fa perdere un terzo del suo peso, ma anche i lupi che in letargo non ci vanno mai e che sono una cinquantina ormai nella nostra regione, distribuiti tra le vadi del Natisone, Cansiglio, Piancavallo, Medio e Alto Tagliamento e Magredi. Il loro numero aumenterà, ma il graduale scioglimento della neve e la conseguente grande quantità di acqua nei boschi, continua Filacorda, permetterà alle specie falcidiate di riprodursi più forti e numerosi in primavera. La neve insomma ha un ruolo fondamentale nel controllo del numero di animali selvatici e la sua massiccia caduta quest'inverno porta a un naturale e positivo riequilibrio dell'ambiente. L'Udinese ora con il rientro oggi di Bram Nighting che ha lavorato con il gruppo al Bruseschi e dunque una buona notizia perché dopo l'infortunio dello scorso 12 dicembre ha ripreso confidenza con il campo, dunque si è unito al resto del gruppo. La speranza dello staff è quella di poterlo convocare in vista dell'anticipo di sabato contro l'Inter. Sarà la seconda di due gare decisive per Gotti, la fiducia a tempo infatti è la situazione appunto nella quale si trova ora il tecnico dopo la sconfitta appunto nella partita contro la Sampdoria. Anche di questo si parlerà a bianco di XXL dalle 21. Per il nostro TG è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito.